60 seconds del giovedì pomeriggio, cari amici, Liz Truss ha stabilito un record difficilmente battibile 44 mi sembra i giorni di permanenza numero 10 di Downing Street, oggi le dimissioni erano nell'aria nessuna sorpresa, un disastro epocale, questo va detto ne scriveremo molto qui vedete sulla ragione sia nella versione online naturalmente che in quella cartacea a proposito per leggerla online avete scaricato l'app, mi raccomando, l'app della ragione o se preferite www.laragione.eu semplice registrazione per sempre, dicasi, per sempre, gratis, il quotidiano ragazzi, Liz Truss numero 1, la piccola Thatcher, piccola, la Thatcher in 32esimi che mi dura 44 giorni nel giorno in cui l'Economist tira fuori la copertina in cui ci prendono in giro piccolo problema, cari amici britannici, nel 2022 è proprio l'anno più sbagliato per prenderci in giro perché, dati alla mano, siamo andati molto, ma molto meglio di voi abbiamo creato molti più posti di lavoro, il PIL è cresciuto di più vogliamo ragionare di futuro? Sarà dura, lo sappiamo, se va bene, 2023 ha un più 0,3, più 0,4 c'è chi ci vede anche in recessione tecnica, vedremo, ma il tema è globale diciamo che prenderci in giro, proprio in questo momento, non appare il massimo dell'idea, però, dato che qui non si tratta di fare gli offesi, che cosa emerge? Ci riprendono in giro, come dire, in tempi eroici, virgolette, e beh ragazzi, anche perché Mario Draghi, proprio in queste ore, chiude il suo lavoro al vertice europeo di Bruxelles di oggi e domani, non è ovviamente un caso, il che non significa bollare in modo negativo Giorgia Meloni, e che se ne va Draghi, visto quello che poi è successo nelle ultime 72 ore in Italia, come dire, da questo punto di vista, a quelli dell'Economist, faccio più fatica a dar torto, sui dati economici, cantonata totale. Vi saluto all'Istrasse.